Il coraggio di tirarli e a questo coraggio ora devono attingere i giocatori Parato, grande salvataggio del portiere Il portiere deve avervi letto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato Deve andare il capitano, questo rigore deve essere suo Il rigore è calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore Palla dalla parte, portiere da l'altra Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto Sarà lui il secondo rigorista della squadra E il portiere deve aver passato alla sua destra Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere Stupenda parata dal portiere Il portiere dimostante di avere ottimi riflessi Questo è il calcio di rigore fondamentale, potrebbe dare un vantaggio pesantissimo alla squadra Nessun problema per il portiere Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol Una parata fantastica Bravo il portiere Anche se non è stato un tiro in esistibile Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita Parato, mantiene in corso la sua squadra Il portiere era c... Era certo su dove sarebbe finito il pallone E il rigore decisivo Non può permettersi di sbagliare Il portiere ha appena regalato la dittoria suoi E si aggiudicano questa gara i calci di rigore E sarà una partita per te molto, molto sofferta Ora però possono festeggiare Gli avversari non hanno saputo gestire l'attenzione dei calci di rigore Ora sono stati...